Si tratta di un reato odioso perché chiaramente consente, come dicevo prima, prima di tutto di avere profitti enormi. Secondo, senza avere contatto diretto con le persone, è una truffa che possiamo chiamare quella del Bancomat, come ha detto l'assistente Truglia prima, oppure truffe genericamente online, che sono quelle sostanzialmente in cui la persona si affida e si fida dell'interlocutore e questo affidamento e fiducia nell'interlocutore è mal riposta e produce effetti devastanti, perché in questo caso abbiamo una truffa di 78 mila euro, quindi per un unico soggetto. L'attività di investigazione delle mate che è stata svolta qui dalla sezione e dai carabinieri prima e dalla sezione poi ci hanno consentito però di ricostruire esattamente tutti i percorsi del Truffaldini, i passaggi alle varie carte di credito, di poste pay, di primo livello, secondo livello e terzo livello, perché chiaramente è una sorta di scala, di scatole cinesi, in cui il primo profitto va su una carta, poi viene utilizzato un'altra per far scomparire il denaro e una terza ancora per incassare. Tutto questo consente chiaramente ai soggetti, agli indagati, di far scomparire tutto quanto rapidamente tutto quello che acquisiscono. Chiaramente è un reato seriale, è un reato diffusivo perché ha come campo tutto il terreno e tutto il web e tutti gli annunci online che vengono attenzionati, come si diceva prima, quindi è altamente pericoloso. In queste indagini ci abbiamo messo impegno, un impegno che ha visto una prima acquisizione delle denunce e delle dichiarazioni e un impegno veramente consistente dal punto di vista della professionalità dei carabinieri, della sezione di PG per quanto riguarda questo aspetto telematico che sicuramente ha utilizzato le professionalità non presenti in altre forze dell'ordine in questo momento e che comunque da corpo specializzato perché chi l'ha svolto, come dire, svolgeva prima l'attività per la polizia postale e quindi con questa professionalità ci consente di ricostruire tutti i passaggi e di andare alla fonte dell'azione. Ai cittadini diciamo che sostanzialmente non è inutile denunciare perché è ricostruibile ed è anche credibile in modo determinato, come in questo caso riteniamo perché i soggetti indagati e raggiunti della misura abbiamo ritenuto che siano soggetti che hanno proprietato non una truffa nei confronti soltanto del Sannita ma tante truffe su tutto il territorio nazionale quindi è una vera e propria centrale truffaldina. L'attività chiaramente è in corso anche sul poste PEG che sono state rintracciate le esamineremo, verrà data appunto una delega specifica per capire quante altre truffe sono state commesse con queste poste PEG, da chi e come, per cercare di intracciare anche i profitti del reato. Dopo una serie di convenevoli venivano, per dare fermezza e concretezza alla compravendita, venivano invitati a ricevere quella che è la famosa ricarica istantanea ossia presso i bancomat, presso gli sportelli bancari venivano invitati a recarsi quanto prima per ricevere una ricarica una sorta di caparra di quella che era questa vendita. Una volta che si recavano presso gli sportelli ci sono una serie di operazioni tecniche, inserita la scheda tra le varie voci che compaiono ognuno di noi quando va al banco ma c'è la possibilità, soprattutto nel circuito postale di effettuare una voce che si chiama ricarica in realtà questa operazione che cosa consente di fare concretamente? Di trasferire del denaro, chiaramente disponibile su quella carta che viene inserita e di spostarlo immediatamente presso una carta beneficiaria loro che cosa facevano? Dicevano guarda noi ti stiamo mandando questa ricarica istantanea adesso ti forniremo un codice, in realtà il codice che cos'è? È il pan della carta sulla quale poi dovevano essere girati i soldi alla quale la carta beneficiaria sostanzialmente quindi l'operazione che veniva presentata come operazione di accredito in realtà era un'operazione di addebito a favore delle carte di questi signori. Maxi Blitz, antica morra, le prime luci dell'alba Avellino messa a setaccio da 250 carabinieri e uomini della Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito dell'operazione della DDA denominata Partenio 2.0 La risposta dello Stato agli episodi criminali dei giorni scorsi non si è fatta attendere 23 misure coercitive per i reati di associazioni a delinquere di tipo mafioso, usura, estorsione, detenzione di armi ed altro notificati 17 avvisi di garanzia e sono ancora in corso ulteriori molteplici perquisizioni nei confronti di altri indagati che secondo gli inquirenti costituirebbero il braccio economico finanziario di quello che è stato definito il nuovo clan Partenio. Stamattina, mentre le 23 persone arrestate all'alba erano negli uffici della caserma dei carabinieri contemporaneamente i militari dell'arma e uomini della Guardia di Finanza di Napoli hanno perquisito abitazioni, uffici, società, ditte ed aziende ricollegabili anche per interposta persona al gruppo delinquenziale. Il nuovo clan Partenio, nato dalle ceneri del vecchio sodalizio criminale che negli anni 90 era guidato da Medeo Genovese ora all'ergassolo in carcere, si sarebbe espanso tra Avellino ed altri comuni della provincia erpina. Non è stato ufficialmente diffuso l'elenco degli arrestati per ora si conoscono i nomi delle persone a vario titolo indagate. Franco Ambrosone, 56 anni di Monteforte Ferdinando Bianco, 45 anni di Monteforte Pasquale Nando Bianco, 47 anni di Monteforte Diego Bocciero, 31 anni di Mercogliano Giuliana Brogna, 41enne di Montemiletto Filippo Chiauzzi, 42 anni di Avellino Pellegrino Cucciniello, 56 anni di Avellino Martino De Fazio, 63 anni di Monteforte Irpino Carlo Dello Russo, 42 anni di Mercogliano Luigi De Simone, 35enne di Montella Giuseppe Durante, 40enne di Avellino Nicola Galdieri, 44enne di Mercogliano Pasquale Galdieri, 45enne di Mercogliano Elpidio Galluccio, 30enne di Avellino Angelo Genito, 51enne di Montemiletto Antonio Matarazzo, 30enne di Mercogliano Giuseppe Moscariello, 29enne di Montella Ernesto Nigro, 41enne di Bagnoli Giuseppina Nigro, 37enne di Bagnoli Ludovico Nittolo, 52enne di Avellino Mario Rosania, 46enne di Cassano Erpino, Antonio Taccone, 26enne di Mercogliano Carmine Valente, 49enne di Mercogliano Un altro, invece, coinvolgerebbe anche la sfera politica del capoluogo. Nel dettaglio riguarderebbe anche le elezioni al comune di Avellino dello scorso anno. Per il momento ci sono solo indagati su questo fronte ai quali, a vario titolo, vengono contestati reati di scambio elettorale, politico mafioso, turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio. All'apparenza un autonolleggio di periferia, nei fatti una lavatrice per reimpiegare denaro proveniente da attività illecite compiute in Romagna, in particolare l'estorsione. È quanto emerge dalle indagini di carabinieri di Rimini e direzione distrettuale antimafia sulla cosiddetta Nuova Camorra, il sodalizio criminale che si stava insediando nel territorio riminese dalla fine del 2018 e che vede come presunto boss Ciro Contini, attualmente detenuto a Napoli. L'esercizio commerciale con sede nel quartiere di Viserba, lontano dagli hotel e immersi in un quartiere residenziale, non avrebbe avuto come primario compito quello di fornire un servizio di noleggio auto ai turisti. Secondo gli investigatori, le sue casse garantivano una notevole capacità economica al gruppo. Nei mesi in cui Contini era in carcere, l'autonolleggio intestato all'indagato Armando Savorra veniva di fatto gestito dal vice Antonio Acampa. I proventi erano impiegati per pagare le cosiddette mesate, ovvero gli aiuti economici ai colleghi in carcere, tra cui lo stesso Contini. Quest'ultimo, sempre in base ai riscontri investigativi, gestiva l'attività anche dalla sua cella attraverso alcuni telefoni cellulari che gli venivano recapitati clandestinamente. In quel modo, il trentunenne campano cercava di scalzare il sodalizio radicato nelle riminese, quello di Massimiliano Romaniello. Quest'ultimo è attualmente ai domiciliari per estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di un imprenditore del settore degli autotrasporti, originario del napoletano, ma da anni residente a Rimini. La vittima aveva cercato la protezione del nuovo gruppo, quello di Contini, evento che, insieme ad altri conditi di brutale violenza, stava scatenando la guerra tra bande, fermata sul nascere dagli investigatori. L'intero patrimonio dell'autonolleggio di Viserba è stato sequestrato ai fini della confisca, insieme a conti corrente, libretti di risparmio e cassette di sicurezza intestati a Savorra. Due collaboratori scolastici originari della provincia di Salerno sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Arezzo per aver prodotto un diploma falso. Inoltre le due stesse persone avevano dichiarato di aver prestato servizio in istituti scolastici inesistenti e non coperti dai contributi previdenziali e un nuovo capitolo in merito ad alcuni bidelli originari del salernitano che avrebbero inserito dichiarazioni false nelle graduatorie di terza fascia 2018-2021 in alcune regioni italiane come Lazio, Lombardia, Veneto e appunto Toscana. Alcune avrebbero segnato nel proprio corso lavorativo scuole paritarie inesistenti nel comune di Castel San Giorgio, mai presenti negli elenchi regionali delle scuole autorizzate a essere paritarie. Venti collaboratori scolastici presenti nelle graduatorie indagati da fine settembre dalle procure di Padova, Venezia, Vicenza e Verona a seguito di numerose segnalazioni giunte al Ministero dell'Istruzione per verificare i diplomi tutti ottenuti con il massimo dei voti segnati nell'ambito delle graduatorie di terza fascia. Quando non si cerca di dialogare, di un confronto serio, insomma di restare sulla propria posizione dall'inizio a destra mi sembra che non sia positivo e dimostro proprio che non c'è la volontà politica. La regione ha finanziato la ristrutturazione, ci sta l'avvio sicuro, non può essere febbraio, può essere marzo, ma ci sta perché accanirsi e voler licenziare a tutti i costi oppure accettare qualcosa che non si può accettare. Ed è chiaro che è evidente che non ci sta la volontà politica, forse ci sta un altro progetto che noi non conosciamo. Siamo qui perché i patti vanno rispettati. Avevamo un accordo che arrivati i rifiuti dalla SAP, i lavoratori venissero concessi gli stipendi. Ad oggi siamo ancora al punto che i lavoratori rivendicano gli stipendi, il salario di agosto e di settembre e quattordicesima. Quindi il paradosso è che arrivati i rifiuti i lavoratori non vengono pagati, non può essere accettato questa cosa. In più siamo in attesa di un incontro con Bonavitacoli e quindi per risolvere la questione del licenziamento che secondo noi è da ritirare immediatamente questa procedura perché la riteniamo illegittima. Riteniamo che questi lavoratori hanno una professionalità di 20 anni che va rispettata e quindi siamo qui. Andremo avanti dando forza alla nostra azione di oggi, continuando anche nel prossimo gioco fino a quando Bonavitacoli non ci riceverà, non ci darà questi incontri dove noi speriamo e ospichiamo che si possa risolvere definitivamente. Perché è inaccettabile la proposta fatta da Costinelli, lavorare 13 ore a settimana, quando i lavoratori che lavorano a full time non riescono a sostenere dignitosamente le famiglie, si capisce che questa è una proposta veramente da non fare, indecente, ci vuole rispetto per questi lavoratori che hanno dato tanto, hanno sostenuto anche quelle che era l'emergenza del 2004-2007 in Regione Campania, hanno messo tanto del loro impegno e della loro professionalità e quindi vanno rispettate, vanno rispettate le loro famiglie, non si può vivere con 13 ore a settimana e quindi il sindacato lotterà fino alla fine per far revocare questi licenziamenti o quando meno trovare un accordo dignitoso. Credo che sia un dovere di chi ha responsabilità di vertice del governo, conoscere i territori, conoscere le realtà, i disagi, le sofferenze e per questo quindi che ho accettato anche questo invito qui in Irpinia, ho incontrato anche le parti sociali, ho visitato una realtà d'eccellenza, il Conservatorio Cimarosa, ho incontrato le parti sociali, i rappresentanti dei sindacati dell'Irpinia, abbiamo un po' parlato dei problemi che ci sono dal punto di vista occupazionale, questo territorio soffre di un callo demografico che progressivamente preoccupa molto e noi dobbiamo cercare di fare sistema anche perché qui ci sono delle realtà industriali, quello che secondo me manca è completare le infrastrutture, realizzare per esempio il fatto che non ci sia una mobilità ferroviaria adeguata, questo qui è un fatto che gravemente penalizza il territorio, dobbiamo fare sistema di modo che le realtà industriali anche produttive esistenti possano esprimere tutte le loro potenzialità, è un territorio ricco, bello e sono qui anche per dare questa testimonianza. Un blizzanti camorra, 23 arresti. Questa è stata una bella notizia che accompagna questa mia visita, questa operazione, 23 arresti contro la camorra significa evidentemente quello che sappiamo tutti, cioè che ci sono donne e uomini che quotidianamente lavorano per contrastare la criminalità organizzata, anche se non sono visibili, anche se ne accorgiamo soltanto quando ci sono operazioni di questo tipo, il governo è determinato a non abbassare mai, è una preoccupazione costante del governo, non abbassare mai la soglia di attenzione, questa sfida contro la criminalità organizzata e questa è una bella notizia sicuramente, oggi quindi dobbiamo ringraziare gli uomini che hanno partecipato a questa operazione. 3.300 visite, un risultato oltre ogni più rose aspettativa, quello realizzato dal campus salute della professoressa Colau, un'iniziativa benefica che ha visto in campo oltre 200 tra medici e volontari che per tre giorni sul lungomare hanno portato il meglio delle specialistiche garantendo prestazioni sanitarie gratuite a tutti i cittadini e turisti. Visitatissimo anche il padiglione Opera dedicato alla prevenzione dell'obesità, ai nostri microfoni la soddisfazione della professoressa Colau. Abbiamo salvato tante persone, veramente cittadini che non sapevano di essere malati passando di qui, hanno potuto averne consapevolezza e risolvere il loro problema, quindi quest'anno il nostro bilancio è ancora più positivo degli altri anni. A visitare il campus in questi giorni, oltre al sindaco di Napoli, anche il cardinale Crescenzio Sepe. Sono quegli esempi eccellenti di cui abbiamo bisogno proprio perché in un momento di difficoltà, in un momento in cui purtroppo dobbiamo sottolineare certi buchi, certe mancanze, queste eccellenze ci danno anche un respiro non solo di solidarietà ma anche di speranza. Ieri, poi spazio allo sport con la Prevention Race, la maratona di 10 chilometri, affiancata ad una passeggiata amatoriale di 2 chilometri. Nei giorni scorsi anche la maratona dedicata ai cani. Tommaso Mandato, ideatore del progetto sportivo. Conclusa la sesta edizione della Prevention Race, una grande partecipazione, oltre 300 iscritti fra atleti agonistici, ma tanta gente che è venuta a testimoniare questo evento per la prevenzione. E' chiaro, siamo al quinto giorno, siamo stanchissimi, ma le parole del Cardinale oggi chiaramente ci hanno dato tante quelle energie e di voglia di, potremmo ricontinuare ancora adesso per una nuova settimana. Abbiamo trovato di tutto, da plastica, coperte, lenzuola, anche diciamo del materiale, anche amianto, quindi diciamo rifiuti di ogni genere. Nelle vasche di contenimento di episcopio a Sarno è stato trovato dunque di tutto, rifiuti che mostrano in modo inequivocabile quanto la gente non abbia capito in modo chiaro cosa sia avvenuto il 5 maggio del 1998 e cosa voglia dire preservare l'ambiente che ci circonda. La natura, quando trasgredisci e non la proteggi, prima o poi si prende terribili rivincite. Nella giornata della 26esima edizione di Puliamo il mondo, la campagna di volontariato organizzata come ogni anno da Legambiente, con le associazioni collegate ad esse e sempre più anche con la collaborazione dei comuni, a Sarno volontari all'opera per ripulire le vasche e i canali di scolo. Insieme a giovani e meno giovani di Legambiente, anche gli operatori del Consorzio di Bonifica Integrale, Comprensorio Sarno e l'amministrazione comunale. Attività inserite nell'ambito di Curiamo, Viviamo e Partecipiamo il Sarno col sostegno della Fondazione con il Sud. Questo è un posto simbolo non solo per quello che è successo tanto tempo fa, ma anche perché oggi questo luogo è diventato anche simbolo di una grande area verde dove le persone vengono qui a correre e a passare un po' di tempo libero e quindi sembrava giusto curare questo luogo in questa giornata così importante. Tante persone armate di buona volontà e con la tradizionale divisa con cappello, guanti, pettorine e sacca si sono portate nelle zone della vasca in via Milone ripulendo un'area davvero molto estesa. Il Consorzio ha messo a disposizione mezzi e personale per operare al meglio, gesti concreti che andrebbero effettuati sempre nella vita di tutti i giorni. Ci preme di ringraziare in particolare gli operai del Consorzio di Bonifica che con grande spirito di volontariato perché anche loro oggi sono qui gratuitamente per offrire parte della loro giornata a questa attività e anche gli altri partner che fanno parte del progetto Viviamo, Curiamo e Puliamo il Sarno che è un progetto più ambizioso che pone al centro molte altre attività di cui presto discuteremo in maniera più approfondita. Come vedete siamo in uno dei luoghi simbolo della tragedia del 5 maggio del 1998 e ringraziamo anche tutti gli altri associati e tutti gli altri volontari, liberi cittadini che si sono uniti a questa carovana per ripulire questi spazi con un gesto emblematico ma che comunque come avete potuto vedere ha fatto in modo che oggi da Episcopio vadano via diversi quintali di immondizia ben differenziata e che speriamo non torni più. Per salvare l'ambiente e salvarci da un futuro pericoloso che è già presente sarebbe bene poi seguire piccoli consigli, iniziare da piccoli grandi gesti come questo del più giovane volontario presente a Sarno. Non buttate le carte a terra! La squadra a mio avviso è cresciuta pure tanto a livello fisico, è cresciuta anche numericamente perché oggi eravamo 22 disponibili. Le cose che sono mancate sono solamente i punti nelle ultime partite perché al di là di tutto le prestazioni sono state fatte anche in una certa maniera. Oggi ti presenti qua, giochi con personalità, fai tutto quello che c'è da fare il primo tempo, trovi il gol, rischi di fare il secondo. Una volta ha fatto una gran parata al portiere, un'altra volta l'abbiamo sbagliata noi. Dopo subisci il secondo tempo, il gol, un po' è cambiata la musica anche prima, però fondamentalmente la squadra anche sull'1-1 ha tentato comunque di cercare di vincere la partita. E questo è una cosa positiva. La cosa negativa è che se tu a 7, 8, 10 minuti alla fine la partita non la riesci a vincere più, non la devi perdere. Cioè tu sei andato, hanno fatto gol del pari, mi sembra 23esimo, 22esimo, una cosa del genere, e tu arrivi a 40esimo che stai 1-1 la partita per me finisce con i palloni fuori a Salerno, non a Pagani. Perché comunque ci ho provato, ci ho messo di tutto per cercare di portarla a casa, non ci riesco ma non la perdo. Sono numeri che ci siamo conquistati, col lavoro, col sacrificio, in merito dei ragazzi. Il primo tempo è stato buono, il secondo tempo è stato ottimo, il primo tempo è stato buono, non abbiamo fatto un brutto primo tempo, assolutamente. Loro, un'azione un po' rocambolesca, ci hanno castigato, ma la squadra è stata in partita, ha sofferto, ma è stata dentro. Il secondo tempo è venuta fuori con personalità, con qualità, e devo fare un plauso a questi ragazzi che hanno messo sotto un avversario di tutto rispetto, perché tutto si è visto fuorché una squadra in difficoltà, come spaventava, ma io assolutamente non mi fidavo, perché basta vedere i nomi che la compongono e la dimostrazione che i ragazzi sono stati veramente bravi, tonici, puliti, in un momento anche di difficoltà che stiamo vivendo, ma la squadra con una reazione giusta, fatta di concetti, ne è venuta fuori da una situazione un po' delicata, alla lunga, per quanto espresso, direi che il risultato ci possa stare. Doveva essere un match difficile, un test per capire lo stato di forma della Scandone e le potenzialità del gruppo bianco-verde. Il netto K.O. è arrivato sul parquet di Palestina per 87,50, ha restituito di sicuro risposte negative a coach De Gennaro e riportato un po' con i piedi per terra, il roster irpino, dopo il successo arrivato nel turno precedente, contro la Stella Azzurra. Al palaiaia non c'è mai stata partita, con la City Sightseeing e sin dalla palla a due, ha comandato nel puntigio e scavato il primo importante surco, già a cavallo fa il primo e secondo quarto. Al termine del primo tempo il tabellone recitava un 46-21 eloquente, e nel terzo periodo, sotto i colpi di Rossi, Tiam e Barsanti, i bianco-verdi sono sprofondati fino almeno 40. Palestina è una squadra da zone alte della classifica, la scandone è stata costruita due settimane fa e dovrà provare a centrare la salvezza. La differenza fra le due compagini, inutile dirlo, si è vista tutta. Nella trasferta in terra laziale c'è poco da salvare per coach De Gennaro. Il suo gruppo ha evidenziato problemi nella produzione offensiva, con il 20 su 59 dal campo e le 21 palle perse, a testimoniarlo. L'unico ad essere sopra la sufficienza, insieme all'under genovese, entrato sul parquet soltanto nel corso dell'ultimo quarto, è stato il solido Nondomengue, 15 punti per lui, nonostante qualche problemino fisico. Quello che ha restituito il match con Palestina è quanto già si sapeva, almeno in parte. Sarà un campionato difficile per Avellino, che dovrà cercare subito di rimettersi in moto, perché di tempo per pensare a quanto accaduto non ce n'è. Mercoledì alle 20.30, infatti, i bianco-verdi saranno attesi da un altro match difficile, quello con la Virtus Arechi Salerno, un'altra delle pretendenti al salto di categoria, che arriverà al Del Mauro per rimanere a punteggio pieno. Mercoledì alle 20.30, infatti, i bianco-verdi saranno attesi da un altro match. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it. Previsioni per martedì 15 ottobre. L'instabilità continua a interessare le nostre regioni settentrionali, con precipitazioni localmente anche intense. Altrove resiste invece l'alta pressione. Ma ecco il dettaglio elaborato, come sempre, da ilmeteo.it. Al nord delle piogge potranno interessare soprattutto l'Emilia, il Trevigiano e il Bellunese, nonché il Friuli Venezia Giulia. Isolati i fenomeni perturbati non vanno esclusi inoltre sulle Alpi Lombarde, più sole e altrove. Spostiamoci ora al centro, dove avremo condizioni di maggiore stabilità atmosferica, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, sia sulle regioni peninsulari, sia sulla Sardegna. Raggiungiamo infine il sud. La costante presenza dell'alta pressione regalerà una nuova giornata all'insegna del bel tempo prevalente, con tanto sole su tutte le regioni. Più nubi solo su Tarantino e Calabria Ionica. I venti soffriranno debolmente dai quadranti meridionali. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno ponte minime di 8 gradi e non supereranno i 21 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 24 gradi al nord, fino a 26 al centro e punte di 27 gradi sulle regioni meridionali.